La Day Optical Virtus Molfetta riparte domenica qui al Palapoli contro il Taranto. Riparte dopo la bella vittoria di domenica scorsa in trasferta. Ripartiamo con coach Dabovic dalla partita di domenica scorsa per poi introdurre quella contro il Taranto. Penso che nel ultimo gioco di Canossa abbiamo fatto davvero un buon lavoro. Siamo in un momento difficile, abbiamo perduto due gioco che non vogliamo perdere. Abbiamo lavorato bene, ma questa squadra è molto, molto piccola, quindi abbiamo molti difficolti per mettere tutti i ragazzi insieme, per capire quale tipo di basket che vogliamo giocare, come la squadra, come la squadra, come la squadra. e poi abbiamo bisogno di rispondere a questo gioco e lo sappiamo. Abbiamo giocato molto bene, abbiamo un alto percentaggio per la linea di tre punti. E penso che questo è il gioco, questo è il modo che questa squadra deve giocare per vincere i gioco in questo molto, molto difficile. Taranto viene da diverse sconfitte consecutive, in questo momento che tipo di atteggiamento dovrà avere questa squadra, la Virtus? In questo momento, chiama che ci spavamo, e questa è la nostra mentalità per questo, perché siamo molto piccola, questa squadra, Taranto, è molto piccola anche, non avevano il gioco, ma sono arrivati per vincere, quindi noi dobbiamo essere concentrati per cento, chiama che ci spavamo, non importa per noi, e solo come questo, possiamo vincere i gioco, e possiamo migliorare come la squadra. Grazie a tutti.